Siamo a Rimini ragazzi, è quando ci vanno? 15? Da quando? 16 16 Questa immagina è il film che si fa Ma non è vero Ma non è vero Ma non è vero Guarda 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 Sì, è il mio che sto incontendo Oh oh, lui non c'è questa cosa È l'unica forma per farci Questo specchio è l'acido, guarda, è il caffè, è il caffè Ma ora com'è nulla